Vai Formichina Come no? Ciao Ti manda a Formichina? No Non so se si vede appannato No, perchè è napolito Vai si fa un caccia all'eprotta No Vai ti Tiri ritmo Ciao ragazzi No 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 Sì Questo biciclettino si muove tutto Che fatica Oh Eh Sì Sono le gambe effavate Sì 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 Sassi spaccavano Sì Nel canale Sì Sì